Il principe Ferri e Meghan Markle si sono trasferiti a Frogmore Cottage a Windsor all'inizio del 2019, prima della nascita del loro figlio, il principe Archie Harrison. Prima del loro arrivo, la residenza è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione. Il duca e la duchessa del Sussex, hanno stretto un accordo con Buckingham Palace per l'affitto di Frogmore Cottage alla fine del 2020, hanno rivelato i funzionari. Nel settembre 2020, poco dopo l'annuncio di aver stretto una partnership pluriennale con il gigante dello streaming Netflix, Meghan e Ferri hanno rimborsato i 2,4 milioni di sterline prelevati dal Sovereign Grant per rinnovare il Cottage a Windsor quando erano sposini. All'epoca, il palazzo disse che la residenza sarebbe rimasta la casa ufficiale di Meghan, Ferri e Archie nel Regno Unito, nonostante si fossero trasferiti negli Stati Uniti mesi prima. Mentre era stato riferito che i Sussex avrebbero pagato una tariffa commerciale per la casa dei Windsor, i funzionari del palazzo hanno affermato che il pagamento di milioni aveva spazzato via gli obblighi di affitto della coppia. L'aumento di valore del casolare a seguito dei lavori di ristrutturazione, è stato preso come affitto sostitutivo. Un portavoce del palazzo ha dichiarato al mail on Sunday. Il duca e la duchessa di Sussex, hanno dato un contributo di 2,4 milioni di sterline al Sovereign Grant, che copriva la ristrutturazione di Frogmore Cottage. Hanno adempiuto ai loro obblighi finanziari in relazione alla proprietà. In linea con la pratica abituale per il rapporto Sovereign Grant, il trattamento contabile è stato esaminato e firmato dal National Audit Office, e dal Tesoro. Come per qualsiasi accordo di questo tipo tra proprietario e inquilino, ulteriori dettagli riguardanti gli accordi di locazione dei Sussex, sarebbero un'questione privata. Si stima che Frogmore Cottage, in cui Megan e Harry, hanno vissuto fino a metà novembre 2019, prima di prendersi una pausa di sei settimane dai doveri reali in Canada, e successivamente prendere la decisione di rimanere in Nord America, costerebbe tra 150 mila sterline, e 230 mila sterline all'anno in affitto. Con il loro pagamento, i Sussex potrebbero aver risparmiato fino a 690 mila sterline. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.